Musica 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 Buongiorno ragazzi qui Champ bentornati con questo nuovo video ed eccoci signori siamo finalmente tornati con il scusatemi sedicesimo episodio del Road to Commander sempre su Battlefield 1 allora oggi partiamo subito con un uccisione incredibile con le Seth Butter scusate la pronuncia 1906 incredibile però siamo finalmente tornati allora questo fucile si sblocca a livello 10 quindi è l'ultimo fucile che possiamo trovare del medico ci ho un po' giocato in questi ultimi tempi per riuscire a sbloccarlo il prossimo nostro livello 10 che vorrò andare a completare sempre vorrò se ci riesco sarà l'Henrigal perché non utilizzo tanto il l'assalto non lo utilizzo tanto però vediamo un po' di cominciare a utilizzarlo allora lì c'è un subito qualcuno facciamo subito allora mamma mia ha sciottato con 5 colpi andiamo subito da qua via così si vola si vola let's go danni mamma mia signore incredibile mamma mia che momenti siamo 3-0 non me la voglio dirà non me la voglio dirà forza così let's go let's go impossibile uccidere un nemico cioè se per esempio lo ho ammazzato se ne presentava uno davanti ero morto in teoria poi vabbè in pratica non si sa cosa sta succedendo cosa sto facendo in teoria poi c'è la ricarica guardate della P-08 che è impossibile 30.000 secondi per ricaricare un cavolo di fucile e infatti è una cosa molto molto sbagliata allora spawnati ho preso un attimo l'assalto perché almeno livelliamo con l'assalto intanto facendo delle chille incredibili ho sbagliato ho sbagliato porca miseria dà ma non c'è credo stavo per ammazzarlo a quello allora let's go è dove conquistiamo conquistiamo a caso così guarda quello come camper meno male l'ha ammazzato un armeno porca miseria dai granata là dentro fidatevi funziona sempre funziona sempre infatti avete visto che funziona sempre mamma mia vedete che funziona sempre andiamo pure a curare no 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 via andiamo che a curare dopo essere il best medico è proprio nella prima guerra mondiale andiamo a curare pure questo se sacrificiamo per la patria sacrificiamo per te amico mamma mia l'ho ammazzato pure questo oh attenzione granata porca miseria sto per morire sto per morire non so ma dai col fucile la pompa dietro alla pianta la pianta ma non può giocare così dai col 10 di vita è pure morto porca miseria guarda quello stronti dai me la torta allora noi se mettiamo così tutto il tempo se mettiamo così tutto il tempo dai madonna che ho fatto come si ha salvato con la granata dai infatti mi sto anche per ammazzare guarda 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 dai porca miseria non spara dritto c'è un rinculo pazzesco sta cosa chiedate riusciremo a uccidere qualcuno oh finalmente i piccionaie fanno fanno i piccioni i piccioni su cornicione attenzione qua c'è sta uno aspetta l'ho ammazzato uno a caso così bono ok hai ucciso un altro che hai ucciso un altro mamma mia la siamo cavata con tre di vita mamma mia siamo sopravvissuti non c'è credo mamma mia dai non c'è credo dai con novi di vita mi ha ammazzato cosa succede il disagio porca miseria ti ho ammazzato finalmente ok grande prova ok grande prova un altro è spawnato cioè non c'è credo guardalo 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 un due sto morto sto morto dai che ho carro pesante così no vabbè uno l'ho ammazzato granata anticarro così a caso così a caso bono due uccisioni per noi let's go bono let's go no 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 dietro 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 mamma mia se no lo ammazzavo vabbè vittoria raga vittoria 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 grande grande vabbè durata durata un po lascerò molto diciamo molto niente non abbiamo il battle pack per chiudere il video ma lasciatevi un subito un bel mi piace sarebbe bello arrivare sempre a 5 per supportare al massimo il route to commander ci diamo con il prossimo video raga qui da champ è tutto bella che c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è un po'